Un caloroso buongiorno a tutti voi, sintonizzati in questo momento su Fano TV, sono le 7.30, questa è la rassegna stampa che tutte le mattine inizia la giornata insieme a voi e quindi voi davanti a un primo caffè, noi davanti al touchscreen vi mostreremo quello che propongono i quotidiani per questa giornata, ma con ordine, il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi è San Giuliano di Tuledo, Vescovo, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 18.03. Per quanto riguarda il tempo partiamo subito dai dati che ci rimanda la nostra stazione meteo, vedete la temperatura è quasi di 8 gradi, è un'umidità del 48%, quindi il tempo si è stabilizzato decisamente, è fresco come indice e anche la velocità del tempo e del vento, vedete, è sensibilmente diminuita e quindi vediamo anche l'immagine della webcam che ci mostra un cielo con anche dei bei colori, un bel azzurro carico, però le nuvole ci sono, quindi insomma è un'immagine che ci rimanda a un dato di variabilità e vediamo che cosa ci dice la protezione civile delle marche per quanto riguarda questa e le prossime giornate. Il cielo al primo mattino è nuvoloso, appunto come abbiamo anche visto dalla webcam, o molto nuvoloso, dipende dalle zone, con apertura in rapido dissolvimento sui settori centro-meridionali già nel corso del mattino e per cui vedete la simbologia è chiara, c'è un po' di sole e un po' di nuvole. Le precipitazioni nei settori meridionali sparse altrove, anche sulla fascia appenninica e le nevicate, il limite è salito sui 600 metri, temperature costanti. Vediamo per sabato, quindi domani, cielo sereno o al più poco nuvoloso, quindi insomma tendenza al sereno, nessuna precipitazione, niente pioggia e il mare è mosso, agitato però a largo. Vedete ci sono due ondine, quindi insomma il moto del mare è in intensificazione per quanto riguarda la giornata di domani, domenica vediamo un sole pieno sulla nostra provincia, ma anche sul resto della regione senza nessuna precipitazione. E allora il tempo è stato veramente inclemente questi giorni, ieri soprattutto, e quindi anche i giornali riportano ampia documentazione di questo. Partiamo dalla tragedia, purtroppo che ha colpito la 49enne, dipendente Ersu, cade pino nel colle dei cappuccini e tragedia si è consumata ieri mattina a Urbino, la donna è stata colpita al torace dal tronco. Vedete i lavori dei vigili del fuoco per riportare in sicurezza il sito, questa è la foto della dipendente, il decesso in ospedale si recava appunto al lavoro e dai colleghi e non si è accorta della caduta e è deceduta all'ospedale. Il Carlino dedica poi la pagina 4 e 5 con ampie documentazioni fotografiche su questa giornata di maltempo. Noi vi mostriamo soltanto una, il furore del vento, vedete dalle foto si capisce benissimo che tipo di giornata è stata, i vigili del fuoco, vedete con questo albero praticamente adagiato su una struttura, insomma sono stati tantissimi gli interventi che i vigili del fuoco sono stati chiamati ad effettuare, sempre pronti, sempre rapidissimi per mettere in sicurezza tutte le situazioni di pericolo e anche il Foglia torna a fare paura. Providenziale la diga di Mercatale e il torrente Arzilla ha creato allarme solo in nottata, meno critica la situazione del Genga. Le raffiche hanno scoperchiato decine di strutture leggere e a lobby, l'ipermercato di lobbistica di Pesaro volano via i pezzi della copertura. Cambiamo argomento la questione del dipinto di presunto Leonardo sotto il riesame. Emilia chiede il dissequestro, ieri a confronto le tesi difensive e quelle della Procura e la Svizzera guarda perché il dipinto è stato posto sotto chiave a Lugano sotto ordine della magistratura pesarese. Le pagine di Fano del resto del Carlino, anche qui documentazione fotografica di quanto è avvenuto nella giornata di ieri, la protezione civile anche fortemente impegnata ad arginare le acque con le barriere fatte con i sacchetti di sabbia. Li vedete qui, gli operatori della protezione civile impegnati in questa operazione. Vento forte, danni e paura in Sassonia, ancora flagellata e i fiumi vanno sotto controllo. Onde alte fino a 10 metri, Viale Ruggeri, tanto per cambiare, è stato invaso. L'allerta è stesa ad oggi e quindi anche oggi siamo sotto allerta, la protezione civile l'ha diramata ieri, barriere con sacchi di sabbia, appunto super lavori per pompieri e protezione civile. Vediamo anche altri argomenti che sono riportati nelle pagine del resto del Carlino, qui si parla di viabilità, viabilità del centro storico di Fano. Traffico, il centro storico invece aspetta perché devo incontrare i residenti e l'assessore ritocca intanto la viabilità periferica, ma il centro storico dovrà attendere un attimino più controlli dei vigili e cautela per le scuole all'entrata e all'uscita. Facilitazioni per garantire più sicurezza, appunto, alla Nuti e ai genitori potranno sbarcare i figli vicino e più vicino alle entrate della scuola. Altro argomento riportato nelle pagine del resto del Carlino di Fano, quello dell'apparto della mensa, l'abbiamo letto anche altri giorni fa. Duello al palto della mensa, 5 milioni e poca qualità, le accuse vengono da Del Vecchio e Mascherin, l'assessore, liquida la questione con un secco sciocchezza. L'assessore, quel bando, dice, ha previsto novità su tanti parametri e il consigliere è un po' smemorato, l'assessore Mascherin, dice questo, di Del Vecchio. Vediamo il crocifisso restaurato, un bel crocifisso ligno che è stato riportato al suo origine, originale, splendore, con ampi, insomma, zone portate via di pittura e grassi e quindi riportano la struttura, insomma, il manufatto a un splendore iniziale crocifisso restaurato. Domani ci sarà la presentazione al Museo Diocesano. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico che anche qui, tutti quanti i quotidiani, devo dire la verità, hanno riportato il maltempo come notizia trainante. Vediamo anche qui la tragedia della donna, insomma, schiacciata da un albero nelle pagine del Corriere Adriatico di Pesaro. La pianta è crollata per le violente raffiche di vento. Le grafiche di vento erano quasi intorno ai 100 km all'ora, dipende un po' dalla zona. Rita Buccarini, 48 anni, era scesa dall'autobus. Veramente una fatalità terribile. Le pagine di Fano del Corriere Adriatico. Il mare fa paura, allargati vie e campi, allarme a Sassonia, Sassonia 3, monitorata la costa fino a Ponte Sasso, esonda il torrente Arzilla, quindi è una vera emergenza maltempo. Vedete qui le immagini sono quanto mai eloquenti di dove è arrivata l'acqua e questo è il calvario eterno di Viale Ruggeri. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico che riguardano Fano, si parla della questione del lavoro, Rencicotti, il fallimento della politica, Celani boccia la proposta di Severi per assunzioni in Aset, si cerca un'altra soluzione e poi un solo sportello, ore d'attesa all'Inps. Unico impiegato, non ha potuto smaltire le code in tempi ragionevoli, non è stato il primo episodio, il tutto si è verificato mercoledì mattina e tensioni nella sede fanese, le proteste di poligioni di prima l'Italia. Ancora altro quotidiano, andiamo nelle pagine di Pesaro per il messaggero che porta una foto, una fotonotizia molto eloquente di quello che è avvenuto anche alle strutture pubbliche. Ve la faccio vedere, guardate questo è il cono, la copertura sopra al nuovo tribunale di Pesaro, guardate questo intervento acrobatico di questo vigile del fuoco per mettere in sicurezza questo pezzo di lamiera che si stava staccando, era il cornicione del cono, questa qui è una vetrata praticamente che dà luce all'interno del tribunale e serve appunto per convogliare la luce all'interno e questa è la struttura che cinge questa vetrata che stava volando via e insomma era veramente una questione di sicurezza perché insomma era anche molto pesante. Allora l'altra questione toccata dal messaggero, lista PD, chiusa la fase delle primarie, si va verso le elezioni regionali però anche verso un braccio di ferro perché insomma le primarie hanno creato diversi malcontenti, un po' di tensione, Giovannelli ha espresso tutto il suo dissenso su questa cosa e insomma si è arrivati un po' ai materassi come si dice, Ceriscioli ha vinto le primarie ma l'assemblea che ratifica le scelte è in mano ai sostenitori di Piero Marcolini. Ecco, Comi pronto a chiedere alla deroga per un terzo mandato, Ricci dice è l'unico a cui spetterebbe una wild car e Giovannelli e Agostini appunto si sono affrontati in transatlantico a Roma, insomma c'è stato un alterco tra i due proprio su questa questione. Ancora dalle pagine di Pesaro c'è una struttura sportiva cara a tutti i pesaresi, insomma e agli amanti del basket che è appunto l'hangar che ha visto pagine di gloria cestistica scritte negli anni passati quando era ancora in auge. Si tenta di riportarlo a una nuova vita, Walter Scavolini che ha legato il suo nome allo Scudetto, vinto appunto in quel palazzetto, insomma vuole riportarlo alla giusta gloria. Allora mantengano la promessa, penso che quell'impianto sia importante per la città, il progetto studiato negli ultimi anni era troppo costoso, ora siamo tornati più o meno all'idea originale, diventerà un contenitore, ci saranno degli uffici, insomma ci sarà tanto da fare per quella struttura che poi tra l'altro è anche proprio a ridosso del centro storico, quindi insomma è una struttura ben visibile anche a quanti percorrono la statale, la nazionale. Martedì appunto il passaggio in giunta poi i tecnici inizieranno a elaborare il piano definitivo. Guardiamo anche la sicurezza, tema importantissimo questo perché insomma i furti negli appartamenti, in questo articolo del messaggero sono snocciolati un po' anche dei dati, dei numeri che sono importanti e questa situazione che si viene a creare dei furti in appartamento dà una netta sensazione di insicurezza al cittadino. Allora la risposta qual è? L'arrivo annunciato dal prefetto Pizzi durante il comitato sull'ordine pubblico agiranno nella vigilanza e nella lotta all'abusivismo. 20 militari in strada, in aumento appunto, come vi dicevo, i furti negli appartamenti e nei negozi diminuiscono le rapine e i reati legati alla droga. Però questi militari che pattuglieranno le strade faranno percepire una maggiore sensazione di sicurezza a tutta la cittadinanza. CRAS, appunto il centro recupero degli animali selvatici, la regione ritrovi le risorse o si chiude, vedete il presidente della provincia di Pesaro, il servizio prolungato fino al 12, ambientalisti vanno verso un sit-in, un sit-in di protesta. Ultima pagina che affrontiamo, come sempre, è quella del messaggero di Fano, e allora vediamo la notizia principale, è quella delle mense. No al mega appalto, botta e risposta tra Udc e Comune del Vecchio, chiede garanzie, 40 posti saranno soppressi. E quindi la risposta dell'assessore Mascarin, che replica spregiudicato, alimentare paure infondate e nessuno perderà il lavoro. Poi un intervento in estremis, una bambina di 11 anni ingerisce candeggina, è stata salvata, la ragazzina è stata trasferita al Salesi e la polizia indaga su questo episodio, ex zuccherificio, anche questa annosa questione fanese, sei mesi per una soluzione. Quindi questa era l'ultima notizia che vi proponevo dalle pagine del messaggero per quanto riguarda Fano. Io mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia per questa rassegna stampa, che tornerà domani mattina alle 7.30, ma questa sera per le notizie 20.30, occhio alla notizia. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.